Ciao Giulio, eccoci qua di nuovo. Ciao Cristian, ce l'abbiamo fatta anche oggi, ciao. Come stai? Tutto a posto? Bene, bene. Questa settimana non sei master, mi sembra strano. Strano, vero? Mi sembra strano anche a me, però le parti pratiche, le parti pratiche delle coach. Ho visto che tutti i trainer ormai sono belli impegnati tutto il mese, quindi alla fine siamo riusciti a creare questa figura lavorativa che non esisteva tempo fa. Assolutamente, l'abbiamo creata e funziona anche bene, si guadagna anche bene, quindi che duri, ecco. E sì, allora ci divertiamo, lavoriamo da casa, a volte scendiamo in strada. Perfetto, sì. E cosa è la cosa migliore? Adesso vediamo i nuovi decreti, cosa dicono, però anche senza discoteche ce la stiamo passando molto bene, quindi. Esatto. Allora, passiamo ad un altro topic. La paura di perdere la propria privacy, la ricercatezza e quant'altro. Sostanzialmente succede questo, i ragazzi quando iniziano a frequentare una ragazza, chiaramente, non so, o la chiamano a volte a casa, o comunque stanno insieme, condividono vari momenti, eccetera, eccetera, e qualcuno, come dire, sente di perdere un po' la propria area di privacy. Esatto, esatto, esatto. La condivisione fa venire meno la privacy. Assolutamente. Quindi, che suggerimenti puoi dare e come vedi tu questa situazione? Allora, io dirò le cose come la vedo io, magari poi il web non sarà d'accordo, giustamente, perché ognuno ha le sue idee, però c'è una verità, nel senso, dal momento stesso, in che tu ti decidi di fidanzarti, di frequentarti in maniera molto seria una persona, quindi pretendi di non essere tradito, per tradimento intendiamo non la pugnalata sulla schiena, ma la richiesta di avere l'esclusiva di questa persona, quindi la persona non deve frequentarsi con altri, perché chiaramente sta frequentando te, sta facendo sesso con te, va a pranzo con te, cena con te, sta con te, quindi la tua richiesta è questa, ma non convivete, ok? Quindi c'è ancora libertà di manovra, ok? Cosa vuol dire libertà di manovra? Che io posso permettermi di farmi i fatti miei, quindi posso uscire qualche volta con gli amici, posso ancora, perfetto. Purtroppo, però, la verità è una ed è poca, cioè dal momento stesso in cui tu deciderai di avere un rapporto di fidanzamento, certe cose dovrai toglierle o dovrai tagliarle, mi potete parlare di fiducia, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Io personalmente non credo mai a queste persone che dicono, io perché una volta ogni 15 giorni la serata con gli amici non posso assolutamente rinunciare, quindi se tu non puoi rinunciare una serata con gli amici, che non si può fare, non può essere fatta in un pranzo domenicale o in un pranzo di sabato o in un'uscita pomeridiana, ma deve essere per forza serale, per forza nei locali, per forza a uscire ogni 15 giorni bollati, perché in molti lo dicono, secondo me la tua relazione non è la persona che cerchi o comunque sia non ne sei troppo soddisfatto, perché non esiste secondo me una coppia di fidanzati dove ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, una volta al mese io devo andare a ballare con i miei amici, cioè secondo me sono due cose abbastanza difficili da mettere, da far diventare compatibili, ok? Dal momento stesso in cui tu decidi di avere un fidanzamento devi cominciare a rinunciare a parte della tua privacy e della tua vita che avevi da single, ok? Che cosa vuol dire questo? Capita l'occasione di uscire con gli amici e andare a ballare, perfetto, si va, ma deve essere un evento occasionale che capita proprio per così, per dico quasi per pura fortuna o comunque non deve essere una cosa programmata, fissa tutte le volte, perché altrimenti non hai rinunciato a quella parte tua di vita da single, è inutile che ci mentiamo, comunque sia le discoteche portano a nuove conoscenze, portano a sguardi, ammiccamenti, cioè portano a cose che se ricevute in cambio darebbero molto fastidio, ok? Questo per quanto riguarda, dimmi Cri, dimmi, dimmi, io penso anche un'altra cosa, noi praticamente siamo over 30 ormai, no? ci continuiamo da quando eravamo under 30, quindi io credo che, almeno quelli che sono nella nostra fascia di età, dai 30 ai 35 anni, cioè se iniziano a conoscere una ragazza e la reazione dura 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi, cioè è ovvio che la cosa si va a strutturare, si andrà a strutturare, se realmente lo vuoi fare, verso una convivenza, ok? Certo, assolutamente. È ovvio che lì la privacy non è più una privacy singola, ma è una privacy di coppia, no? Certo, assolutamente, assolutamente d'accordo. Guardi, io mi apro anche un po' a tutta la gioventù, comunque i ragazzi più giovani sotto i 25, consiglio realmente 24, 23, trovate la persona giusta o quella che reputate più corretta, andate a convivere, rinunciate alla vostra parte di privacy, rinunciate a bordate di ore di PlayStation a casa della vostra madre o di vostro padre, rinunciate al calcetto il fine settimana, il giovedì, tutti i giovedì e martedì calcetto, per carità, cioè lo fate due giorni, fatene una sola volta, a cosa non dovete rinunciare? A voi stessi, alla vostra palestra, al vostro allenamento, alle letture, ai vostri hobby, quello è una persona deve assolutamente accettarlo come voi, dovete accettare e condividere i suoi. Se la ragazza è una patita, che ne so, di andare una volta la settimana o al mese a teatro, andate con lei una volta la settimana a teatro, perché non potrebbe essere un'idea. Cercate di cominciare a condividere i vostri hobby ed entrambi dovete cominciare a rinunciare alla vostra vita da singole e quindi allo stesso tempo ai vostri segreti, alla vostra privacy. Questo che cosa vuol dire? che mi posso confidare ovviamente, certo, con chi voglio, con qualunque amico, eccetera, eccetera, ma non posso più pretendere che la mia vita, quando dico esco con i miei amici, non debba dare una spiegazione seria, perché ho deciso in quel momento di fidanzarmi con i miei amici, dal momento in cui ho deciso questo, non mi posso permettere di dire, no, questi sono affari miei perché sono con i miei amici, non te lo devo dire, non è una risposta. Molte volte alcuni ragazzi in coaching sono preoccupati dei fidanzamenti perché devono rinunciare alle loro routine, alcune routine con gli amici e io ve lo confermo, sì, se voi cercate di fidanzarvi con una persona seria e volete un rapporto serio, dovete rinunciare a parte della vostra privacy che diventerà, come hai detto tu, di coppia, assolutamente. Sì, e poi sai cosa? Io penso che se tu, come dire, non testi questa cosa in un'età abbastanza giovane, arriverai ad un momento in cui, non so, i 40 anni, 45, e in quel momento sai, fai quasi fatica ad accettare un'altra persona all'interno di questa tua, talmente abituato e ben strutturato con la tua privacy totale, la tua riservatezza, praticamente, appunto, globale. Tu schiema la tua vita, oramai ha una piega che non vuoi più cambiare. Esatto, perché stai bene, non ti manca niente, magari sei autonoma indipendente, non vuoi stress, non vuoi rotture di scatole e rimani sempre così. Esatto, quindi occhio alle scelte, ragazzi, perché magari a una certa età poi non avete veramente più voglia. E vi capisco, ve lo posso garantire che è anche molto comprensibile. Chiaramente sì, ci sono i nostri studenti, per la maggior parte ormai i nostri studenti sono molto giovani, cioè più giovani di noi, possiamo dirlo? Sì, sì, assolutamente. E quindi non hanno ancora questa esperienza. Mentre quelli più grandi, vedo che magari sì, cercano la relazione, però vogliono che alla sera, quando si è finito di stare insieme, ognuno a casa propria. Eh, lo so, non è relazione quella, non è relazione, è semplicemente una finestra in cui ti stai cercando di aprire alla possibilità di una relazione. Ovviamente è vero, c'è la conoscenza, ci sono tutti i crismi che nella tua testa bisogna rispettare. Da questa comunque rinuncia della privacy, per quanto tu possa conoscere la persona, non ci scapperai. Quindi per quanto possa essere il modo di cercare, di capire come fare, non esiste. Credetemi che l'unica verità è quella che nel momento stesso in cui decidete di stare con una persona, rinuncerete a una parte della privacy. Ecco, tutto qua. Questo è quanto. Giulio, ti ringrazio. Grazie a voi, grazie a tutti. È stato un piacere come sempre. Ciao Cristian, ciao ragazzi, ciao ciao ciao.